Ci troviamo in Contrada Michelazzi nel comune di Sant'Anna d'Alfaedo. Oggi viene inaugurato ufficialmente il nuovo acquedotto che è stato potenziato rispetto a quello preesistente. Una condotta che porterà 100 litri al secondo in aggiunta in parallelo a quella preesistente che risale addirittura agli anni 50 e che arrivava fino a 80 litri al secondo. Qui si trovano anche tre serbatoi che immagazzinano in totale 1000 metri cubi di acqua. Un'opera molto rilevante che porterà acqua con maggiore costanza e senza rischio di rimanere a secco come capita spesso d'estate se non ci fossero le autobotti che vengono su a portare l'acqua manualmente. Un po' in tutta la Lessinia fino a Bosco Chiesa Nuova, Erbezzo e poi giù nelle valli della Valpolicella. Sentiamo le parole del presidente Montovanelli e poi del sindaco Raffaello Campostrini. Lavori iniziati ancora nel 2019, quattro anni di cantiere molto impegnativo perché abbiamo dovuto affrontare un dislivello di circa 900 metri dal campo Pozzi di Peri fino qui al comune di Sant'Anna del Faido dove abbiamo il principale impianto e il principale serbatoio di accumulo d'acqua e abbiamo realizzato una condotta del diametro di 250 metri affiancata a quella esistente che aveva un diametro 200 e quindi siamo riusciti a più che raddoppiare la portata di acqua. La nuova tubazione ci consente di arrivare fino a 100 litri al secondo e con la precedente arrivavamo ad 80. Abbiamo avuto nel 20 e nel 21 degli anni abbastanza difficoltosi, in particolare nel 21 abbiamo speso complessivamente come Acqua Veronesi oltre 300 mila euro per portare acqua in Lessinia con le autobotti perché le sorgenti chiaramente davano meno acqua contestualmente all'afflusso turistico, quindi all'aumento della popolazione e con questo tipo di impianto riusciamo sicuramente a migliorare di molto la situazione e garantire più sicurezza e approvvigionamento. Questo ci consente anche sviluppi per il futuro, quindi possibilità del territorio di svilupparsi e di crescere e siamo pronti subito dopo l'estate a partire anche con i lavori per portare acqua alle malghe. È un intervento che aspettavamo da vari anni e grazie alla collaborazione sempre che c'è tra i comuni, tra Sant'Anna, Marano e Fumane siamo riusciti ad avere questo milione di euro che ha contribuito chiaramente in parte a fare l'intervento più grosso di potenziamento da peri qua a Michelazzi che è il cuore da dove poi parte e si distribuisce l'acqua a tutta l'Alessinia. È un intervento chiaramente doveroso perché l'impianto, il tubo esistente fatto negli anni 60 chiaramente non possiamo avere garanzia di quanto potrà durare per cui l'aver fatto questo lavoro attualmente ci permette di lavorare con delle pressioni più basse e portare in quota l'acqua con minore spese e poi in futuro quando avremo rotture sul vecchio tubo avere già posizionata la tubazione nuova. Soprattutto negli anni passati dove c'è stato più bisogno l'impianto ha dato una grossa mano e darà una grossa mano anche in futuro visto che la seccità è sempre più frequente e inoltre va a dare una mano anche a un impianto vetusto che potrebbe creare problemi in futuro.